ok noi sappiamo che la prima lettera la c di css sta per cascading quindi guardiamo cosa vuol dire questo cascading cascading significa che un documento può includere in un certo senso in cascata più di un foglio di stile e la visualizzazione segue delle regole di priorità quindi non solo in css una regola più specifica vince su una regola generica ma dipende anche da dove è stato definita dove sono state definite queste regole seguendo queste regole di priorità allora la priorità più bassa diciamo è lo stile di default del browser quindi quel css che abbiamo visto quando abbiamo fatto un esempio su html che visualizzava per esempio l'h1 come più grosso rispetto al p quello era lo stile di default applicato dal browser questo stile di default applicato dal browser viene sovrascritto da uno stile definito esternamente lo stile definito esternamente viene sovrascritto da uno stile interno tipicamente nella sezione add dell'html e infine viene questo stile interno e tutti gli altri che lo precedono vengono sovrascritti vince diciamo lo stile in line quindi quello dentro un tag html che inizio a dirlo già detto quando abbiamo parlato di html è da evitare quando preferibile allora guardiamo queste differenze partiamo va bene abbiamo già visto quando abbiamo parlato di html lo stile default quello semplice che applica il browser guardiamo che cos'è lo stile esterno lo stile esterno è un file chiamato come volete a volte style.css a volte custom.css o qualcos'altro che sia significativo per il vostro sito per la vostra applicazione web che contiene al suo interno una serie di regole nel nostro caso abbiamo un file che si chiama style.css che contiene queste due regole queste due regole una per h1 e una per h2 come linkiamo all'interno della nostra pagina html un foglio di stile esterno lo linkiamo prima di tutto nel led e secondo con questo tag che si chiama link quindi link href style.css ci dice che dice al browser che laddove c'è questo file html nella stessa diciamo nella stessa cartella c'è anche un file che si chiama style.css che è da caricare per lo stile link ha poi degli attributi esterni uno che dice che questo è appunto è un style sheet come relazione uno style sheet e uno che dice che il tipo di questo style sheet è css text css è il content type di questo file quindi il tipo di questo link è di tipo text css quindi interpretalo questo file come un file di css e non come un file xml o un file json o quant'altro e tutto questo serve per dare lo stile quello è lo stile esterno che è quello diciamo così da preferire sempre quando possibile avere un file css che viene linkato in questo modo nel led nel file html e lo stile interno che ha priorità più alta rispetto allo stile esterno e invece direttamente nel led aprire e chiudere un tag che si chiama style sempre di tipo text css e qui all'interno scrivere l'insieme di regole necessarie per il nostro css queste sono le stesse regole esattamente come le scriveremmo nello stile interno però le scriviamo direttamente nel nostro file html questo di nuovo non è raccomandato ed è da preferire lo stile esterno perché così ci permette davvero di separare come già vi dicevo quando parlavamo di html come la pagina è strutturata qual è il suo contenuto da come la pagina appare invece in questo modo stiamo buttando il css all'interno della pagina html infine quello che ha la maggior priorità è lo stile inline quindi è un attributo style analogo a questo tag style in questo caso è un attributo che si chiama style che contiene al suo interno le dichiarazioni css non contiene il selettore perché è già applicato a uno specifico elemento che avrà magari una specifica classe che avrà che sarà magari dentro una che avrà uno specifico genitore e così via questo stile in linea quindi style uguale un insieme di dichiarazioni separate da punte virgola sempre scritte allo stesso modo è da evitare come la peste e si può utilizzare tipicamente a volte si utilizza per cambiamenti locali molto molto specifici e a volte anche temporanei voglio provare come apparirebbe questo con queste proprietà faccio un esperimento mettendolo in line si è ragionevole sposto questo in un appropriato file css con un appropriato selettore e quant'altro chiamandoli magari in una classe che posso chiamare big green text per esempio oltre a questa gerarchia quindi lo stile del browser lo stile external e internal usando sempre la regola più specifica vince sul più generale e quella che viene dichiarata dopo vince su quella che viene dichiarata prima lo stile in linea poi c'è anche un'altra proprietà un altro elemento che ci permette indipendentemente da dove vengono definite le proprietà css di dire che una regola è marcata come importante quindi deve essere applicata non importa dove quindi vedete qui ha una priorità più alta di tutte e vuol dire che in fondo alla dichiarazione color red a una qualunque dichiarazione si scrive punto esclamativo important e questa passa anche se fosse stata definita nel browser diciamo di no anche se fosse stata definita come external passa immediatamente a una priorità più alta addirittura anche degli stili in line quindi questo è anche addirittura degli stili più specifici che possono essere stati definiti su questo stesso elemento h1 quindi questo slash important ci permette di scalare in un certo senso la lista delle proprietà e far andare uno specifico uno specifico insieme una specifica dichiarazione da il suo valore di proprietà normale a estremamente importante e quindi applicato diciamo sempre questo è da usare ovviamente con cautela e cognizione non bisogna abusarne infine la specificità quindi la specificità determina quale regola è applicata dal browser e ogni selettore ha il suo posto nella gerarchia di specificità e qual è questa gerarchia? prima di tutto ci sono i selettori di tipo i selettori di elemento e di pseudo elemento poi ci sono in una priorità i specificatori di classe quelli di attributo e di pseudo classe tipo hover vedete questi qui con due punti qui li abbiamo chiamati pseudo classe quelli con doppi due punti come pseudo elementi ma sono quelli che abbiamo visto prima e infine i selettori di D che sono molto molto più specifici perché si applicano in maniera estremamente puntuale rispetto per esempio alle classi che si possono applicare su dieci elementi diversi o quelli di tipo che si applicano a qualunque elemento di quel tipo e qui c'è un disegnino è un grafico molto giocoso con il link da cui ho stato preso con cui potete se volete appunto riflettere sui selettori l'importante vedete che questo important prende priorità su tutto questo è un settore universale quindi ha specificità diciamo che questa specificità è priorità minore perché si applica su tutto important invece ha specificità maggiore perché si applica esattamente su una cosa ed è anche priorità maggiore e quindi qui ci sono un po' di esempi anche un pochino giocosi con dei pesciolini degli squali eccetera che fa vedere quanti selettori di tipo ID sono stati usati quanti selettori di tipo classi sono stati usati in questa cosa e quali sono il numero di elementi di selettori di elementi o di pseudo elementi quindi per esempio questo è un selettore di D questo è un selettore di classe questo è un selettore di attributo tutto quello che ha come tipo checkbox questi iniziano ad essere combinati questa è una classe che viene applicata a tutti gli elementi agli elementi di tipo list item oppure questo è l'unione tra questo è il div un elemento un selettore di div con un selettore di classe applicato a LI con un selettore di attributo href applicato ad app e così via grazie a tutti grazie a tutti